Ciao a tutti ragazzi, io sono Frecciapotente e oggi siamo su Teglub, è un gioco trasparatorio così, quindi Harry Potter si è rotto e ce l'ho detto a quell'altro, quell'altro ha detto con me si è rotto e mi sono preso un altro gioco. Quindi ci voleva tre ore e ho preso questo, eppure è bello in senso, si possono fare pure a molti giocatori. Ok, passare rapidamente e uccidere un nemico per guadagnare il riuscimento colpo improvviso, ok. Sovrere fino allo scadere del tempo e resta all'interno dell'aereo con il soffio del gesto. Quindi ragazzi questo sarebbe il mio personaggio. Oh ma questa cosa è difficile, se ragazzi sarà un tutorial in senso che durerà un po' più poco perché... Aiuto, 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 dinderò, dinderò, ah, ci possono raccogliere pure alberi se non mi fa, ah, muore, ma è difficile. Dai, porca, porca! Porca troia! Porca troia! Aiuto! Oh, aiuto! Oh, ah, frate! Oh, aiuto! Aiuto! Sto andando indietro! Mamma mia! Questo durò dieci minuti! Ah, aiuto, aiuto! L'ultima volta! Perché ragazzi questo è un tutorial perché questo qui oggi lo faccio... No, voglio riprovare... No, voglio riprovare... No, voglio riprovare! Oggi sarà un tutorial in senso per farvi vedere un po' com'è. C'è pure il multigiocatore. Il multigiocatore deve essere una figata. Nel prossimo episodio però ci proverò. Perché mo' in senso... Perché mo' in senso... Facciamo così, a... Evento single... Ehm... Questo, no... Fin... Perchè è torturato? Curo, ma è chi l'ha detto, Curo? No, non voglio... Voglio a Fin... Perchè Fin è l'avventuriero! Fin è l'avventuriero! E vai! Vai! Che... Cos'è? C'è un evento? Che devo abbracere a... No! Basta qui! Tranquillo! Fall, tranquillo! Tranquillo! Basta! Voglio tranquillo! Il punteggio da battere. Per vincere questo... Ok, scuola colpisce i teschi... I teschi! Per aggiornare... E ottenere punteggi massimi, ok. I barilli di sostanze volate... E... Una volta... Per riuscire, ok. Per vincere questo... Ok, già! Non mi ha fatto nemmeno riuscire un cazzo, ma non fa niente. Fin! Fin! Fin l'avventuriero! E la... Madonna! Punteggio da battere! Io lo batto perché questo è fin l'avventuriero! E batte a tutti! Perché fin l'avventuriero! E perché fin... Aiuto! Aiuto! Ma chi è? Oh, 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 oh! Questo è il senso... Prima ho fatto un torneo perché i torneo ti danno cose a casa invece... Questo è proprio il primo! E questo è fin l'avventuriero! A me piace un casino! Perché mi ha dato quelle non fin? Che tiene un... Un coso della... E poi che... A casa è spuntato un'arma! A casa è spuntato un'arma! Chi se ne fotte! Oh, questa arma è pericolosa! Andiamo... Andiamo a comandare! Ah! Oh! Proprio nelle cianghe! Arma raccolta! Che abbiamo raccolto? Niente! Vabbè! Ciao! Nelle cianghe! Tu... Tu... Tutto nell'ano! Ehi! Bello! 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 Oh! Non ti pigliare con Franza! Con il... Con fin l'avventuriero! Non hai capito in mocca e te la scassa! Vieni! Eh! Ma dove andiamo? Giro, giro tondo! Quanto è bello il mondo! Lo devo fare così? O cosa? Non ho capito! Ah! Qui, qui, qui! Andiamo a! Veloce! Finn! Fii l'avventuriero! Fii l'avventuriero di... Di Gesù Pino! E della Madonna! E dai! Finn l'avventuriero! Dove sta il tuo Jake? Tanto il Jake ce l'hai nelle palle! Perché non si fa... Perché ti ho scelto! Finn! Vai veloce! Forza! Arma raccolta! Che ho raccolto? Facciamo un po' di questo! Ah! Sta per i servizi! Compa è perso! Ok ciao! Ma dove devo andare in questo gioco? Qui l'ho capito! Qui è un casino! Ah! La granata! Grazie! Grazie! Tu sei il mio amico! Oh! Ah! Ah! Sei qui! Grazie! Grazie amico mio! Come se... Affine l'avventuriero! E la madonna! Ecco! E... Nemmeno po' cazzo! Tu muore! Arma raccolta! Facciamo un po' di questo perché... Ragazzi! Beh... Aiutatemi pure a trovare qualche nome perché... Ehm... Affine non rimano così perché è troppo figo! Però gli altri sono brutti in sensi no! Munizioni raccolte! Cose raccolte! Allora... Allora che dobbiamo fa'? Dobbiamo cazzeggiare? No! Esplodete! Abbra! In gardu! Nebiosa! Ah! Muori! And... Oh! Oh! Non capito nemmeno un cazzo in questo gioco ragazzi! E qui... Fin... Quindi come stavo dicendo in senso... Affine non rimano così perché... Cioè è troppo figo questo nome! Ma è più veloce Fin! Mi fido! Oh! Area granata! Ah! Qui! 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 Forza! Forza! Fin l'avventuriero! Tu che sei nei scieli! E alla madonna! Chi sei? Ve l'ho completato? No! Nemmeno pagazzi! Nemmeno pagazzi! Sì! Morite tutti! Munizioni! Com'è figo! Mamma mia! Come sono fuori! Cosa? Dove? Dove stai? Ah sei lì! Ciao frate! Mori! Mori! Ma? Dove devi andare? Non devo andare qui! Dove devi andare? Qualcuno mi dà qualche mappa o cosa? Dove devi andare qui? No? No! 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 Dove devi andare? No! Non ho capito! Dove devo andare... Qui no! Perché è uscito? Ah! Ecco! Andiamo! Arrivederci! Ah! Arma raccolta! Che ho raccolto? Oh! Frate! Muori! 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 Muori pure tu! Oh! Frate! E qualche problema? E qualche problema tu? Che io sono fin dall'avventuriero! Che mi piace troppo? Questo sei il mio personaggio! In to... In... Giocatore singolo! Perché è troppo figo! Come ho perso? Ok! Chi? Livello completato! Ehm... Ragazzi! Quindi... Cioè! Questo è stato un tutorial! Spero che questo... Quindi ragazzi! Spero che questo video vi sia piaciuto! Ma date un mi piace anche quel commento ovviamente! Se non siete iscritti! Iscrivetevi! E noi ci vediamo al prossimo video! Bella ragazzi!